Ciao a tutti ragazzi sono Luke e benvenuti su Luke in Loop Oggi andiamo a fare un video di un sito che feci già sul mio primo canale Ed è un sito molto importante per gli amanti appassionati di Counter Strike Che giocano più che altro con le skin In questo sito potrete prendere le vostre skin di Counter Strike Per cui di un gioco virtuale E trasformarli in soldi reali Grazie a Skin Cash Vi lascio il link in descrizione qualora foste interessati E ragazzi feci già un altro video su questo sito Già ve lo dissi sul mio canale Luke4316 E provai appunto a vedere se funzionava Ragazzi funziona I soldi mi sono arrivati realmente su Paypal Ma lo riproviamo per l'ennesima volta Ora io qua ho una vasta gamma di armi mie Possiamo scegliere tra CSGO, Dota 2 e Team Fortress 2 Io anche di Dota 2 dovrei avere qualcosina Forse un gadget, un qualcosa Vediamo un po' Voglio vendere oggi 3-4 armi che io non utilizzo E vedere se mi da soldi reali Magari voi vincete che ne so un coltello da 100 euro Potete prendervi 100 euro su Paypal E poi spendervi come volete Per cui non sono soldi che rimangono racchiusi All'interno di un videogame Questo sito è molto importante appunto per quello Voglio per esempio vendere ragazzi Questo disco che non mi interessa 1,46 euro Poi voglio vendere per esempio Un Famas Non lo so Questo qua da 5,8 centesimi Vedete qua comunque va ad ammontare Poi più si vende E più si sale di bonus E io vado a vendere per esempio Abbiamo un bel po' di pagine Vado a vendere Questi due 1,1,2 Siamo a 3,21 Cerchiamo di arrivare a 10 più o meno Vediamo se abbiamo qualcosa di un pochino più costoso Abbiamo 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 3,90 uguali Vendiamo questi due Siamo a 5,69 Vendiamo anche Vabbè l'ultima arma E arriviamo a 5,96 6 dollari 6,23 euro Detto questo ragazzi Dobbiamo Semplicemente Chiedere come vogliamo i soldi E io in questo caso Sceglierei Paypal Mettiamo i nostri dati E poi accettiamo Eccoci qua ragazzi Siamo in una pagina nuova Dobbiamo accettare il trade Ci porterà su una nuova pagina Dove appunto verrà effettuato Il vero e proprio scambio Noi confermiamo Facciamo così Poi aspettiamo E facciamo accetta lo scambio Ora ci arriverà Il classico messaggio sul telefono di Di Steam Guard Eccolo qua Mi è già arrivato Ecco qua E andiamo ad accettare Accetta Quello che è successo Perché però Le abbiamo passato Le nostre armi Ora Vedete Entro 15 minuti Loro ci danno i soldi Siamo a Allora c'è il trade confirmation Confirmation Ossia la conferma Del passaggio Poi abbiamo il payout Ossia loro ci stanno pagando E poi abbiamo La completezza Ossia i soldi Che ci sono realmente arrivati Io entrerò poi Nella mia paypal E vi mostrerò Se effettivamente Mi sono O non mi sono arrivati i soldi Ora Aspettiamo qualche minuto E quando Si è completato Comunque ci risulta Direttamente qua E' tutto verde Ci dice E' andato a buon fine E bla 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 Eccolo Guardate in diretta Ragazzi in diretta Da proprio pochissimi Secondi Addirittura neanche venuti Your deal is complete Andiamo sulla paypal A vedere Ebbene si ragazzi Eccolo qua 6 euro e 24 centesimi Direttamente da Suntech Soft Court Limited Ebbene si I soldi sono arrivati Ragazzi Skin cash Torniamo dalla home E' un sito Davvero davvero figo Perché Se io Molte volte le armi Ce le passiamo Da un sito all'altro Per aprire casse E bla 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 Ma qualora vinceste Un'arma un pochino Più importante Magari Che ne so Di 100 euro Che non volete rivendere Per aprire altre casse Ma vi servono quei soldi Questo sito Fa per voi Perché vi da I soldi reali Un bacione Un abbraccio Da Luke Lupe tutto Ciao a tutti